E andiamo con il primo, Quinter, cane da ferma inglese, setter irlandese, Bracco italiano, Kurzar o Bracco tedesco, Dratar, Wisla, Weimaraner, Epaniel Breton, setter irlandese, Bracco francese dei Pirenei. Grazie a tutti gli altri, rimangono a giocarsi il podio. Il Bracco italiano, il Kurzar o Bracco tedesco, Epaniel Breton, il setter inglese e il Weimaraner. Si preparino nel Prering i migliori soggetti dell'ottavo gruppo, cani da cerca, da riporto e da acqua. A giudicare il prossimo raggruppamento sarà il giudice, il signor Stepinski. Vediamo Lepaniel Breton. Il cane che i cacciatori definiscono un piccolo grande cane. Ora vediamo il setter inglese, la razza più allevata dei cacciatori, eccellente cane da ferma. Grazie a tutti gli altri. Grazie a tutti gli altri. Al terzo posto il Bracco italiano, al secondo posto l'Epaniel Breton e al primo posto il setter inglese. Grazie a tutti gli altri. 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 Grazie a tutti gli altri.